in diretta aspetta ad andare in diretta aspetta un attimo che 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 no ormai è per per errore ho spinto la diretta oh ragazzi sono in diretta allora aspetta allora andiamo a vedere la diretta eccola qua la diretta sono in diretta buon compleanno red ragazzi non è colpa mia copia link allora ecco fatto allora copia lingue metto su telegram ok su telegram incolla ecco fatto poi dopo adesso andiamo ciao questa è una diretta a sorpresa cioè nel senso che siamo qui comincia ad arrivare gli amici perché stasera festeggiamo il compleanno è arrivato alberto ferrari e poi è arrivato antonio pirpan da napoli e ha portato le sfogliatelle e la mozzarella che mangia e naturalmente ho lì si è subito andata ad antonio questa è la cosa bella allora aspetta che condividiamo la diretta condividiamo anche facebook ecco qua facebook allora facebook condividi altre opzioni allora copia copia sta arrivando oggi è una giornata da un punto di vista cose bello perché perché tutti scrivono telefonano adesso metto in silenziatore perché altrimenti pubblica poi dopo poi dopo facciamo così se le pagine facciamo naturalmente opti magazine c'è direttore cosa sei tu per opti magazine il direttore editoriale direttore editoriale di opti magazine opti magazine ragazzi è la magazine web sulla quale io mi appoggio sempre tutti i miei articoli sono su opti magazine ecco fatto abbiamo messo redroni punto tv adesso mettiamo opti magazine pagine condividete la diretta ragazzi condividete la diretta ecco fatto opti magazine e poi dopo partiamo partiamo puoi anche già partire alberto è si sto condividendo anch'io anche tu stai condividendo ok e quindi 30 secondi ci sono ok va bene ok a posto va bene allora buon compagno grazie grazie per gli auguri questa notte ho fatto una diretta sorpresa questa notte nel senso che ho finito con vasco con venti minuti prima non sembrava che avessi chiuso per la mezzanotte poi ho riacceso e abbiamo fatto augurissimi red grazie buon compagno ecco qua ecco vedi sta contendendo un abbraccio ciao si stanno un po attaccando adesso stanno attaccando adesso adesso ci sono ci siamo si ci siamo questo cos'è facebook si quello è questo è facebook questo è facebook e allora adesso arrivo fra un po anche youtube allora veniamo veniamo a te bambino allora no veniamo veniamo a te quindici quindici dicembre quindi cosa dice la conoscenza dei numeri per il quindici dicembre ma mi danno occhiata cosa hai messo sul culo di vedere nella tua agenda cosa hai messo il giorno del quindici dicembre poi ho fatto questa agenda dove fra l'altro ha collaborato mia figlia jessica e cristiano hanno collaborato alla grafica assieme alla patti che la parte oggi non c'è è dedicata al 2022 che l'anno della donna però il quindici dicembre voglio vedere cosa hai messo il quindici dicembre sono messaggi foto il quindici dicembre a c'è la foto di bonucci con la coppa dei campioni il quindici no coppa europa coppa europa a la coppa europa che ha vinto l'italia ok allora la data rinastia di red rodney innanzitutto è l'anagramma della data di morte di leonardo da vinci partiamo da qui a livello numero logico sì quindi una cosa molto interessante dov'è che devo guardare qua tu guarda la vedi allora ok una cosa molto interessante è che il quindici dicembre del 1951 è l'anagramma del 2 maggio del 1519 quindi simpaticamente visto che che io amo e adoro leonardo da vinci che lo trovo che sia veramente una guida c'è questo gancio poi una cosa molto divertente che l'anagramma del nome red ronny indica dio lo so che fa sorridere però se voi fate red ronny togliete tutte le lettere che si vanno a scomporre esce la parola dio sicuramente diciamo che red mi piace pensare che sia collegato attraverso la musica all'universo quindi nicola tesla altro grande storico della conoscenza sostiene che quando il 3 e il 6 e il 9 si riuscono tra di loro l'universo crea noi siamo creatori dell'universo e red ronny sicuramente è creatore dell'universo attraverso la musica e quindi buon compleanno red 70 anni tra l'altro io a red ho consigliato sir red ronny che indica la firma 42 che è un guaritore e quindi sicuramente un anno in grande ascesa tra l'altro quando ha creato questo nome sir red ronny ha avuto un espluato su telegram che da 9 mila persone è passato a 25 mila in un giorno e mi ha preso anche per il culo per per un mese perché l'ho fatto incazzare e adesso comunque è un grande seguito questo mi fa solamente piacere per quanto riguarda questa agenda è molto bella perché un'agenda totale di numerologia ok di numerologia e la cosa bella è che ci sono le giornate da bolino rosso bolino verde positive negative l'anno scorso ho fatto un'agenda dicendo che a febbraio sarebbe saltato il governo ed è saltato ad agosto sarebbero iniziati i terremoti specificando la data ed è stato così a novembre ci sarebbe stato caos politico a livello italiano e c'è stato così quest'anno ci saranno delle cose molto rilevanti soprattutto nel mese di novembre dell'anno prossimo se tu vai a novembre dell'anno prossimo si tornerà a parlare della lira quindi si aprirà una finestra che ci sarà una grandissima parte dell'italia che vorrà parlare della lira l'anno prossimo che è l'anno 2022 l'anno del femminile l'anno dell'energia femminile che non è che c'entra con la donna parliamo di energia femminile energia femminile significa che cosa energia femminile significa amore armonia bellezza lusso estetica tutto ciò che è bellezza quindi è tutto ciò che bellezza questa è una agenda che è una piccola opera d'arte secondo me non perché l'ho fatta io però grazie a red alla figlia che è bravissima al mio architetto assistente patti che è bravissima sai che patti ho visto che mi ha fatto gli auguri sta guardando la patti sì la patrizia è molto brava ma comunque l'agenda secondo me è un piccolo capolavoro tra l'altro piace tantissimo però la cosa più bella è che dobbiamo cercare di dare dare positività l'anno 2022 sicuramente è un anno di grandissimo cambiamento per molte persone che devono cercare di andare nel modo più assoluto parlare di amore parlare di armonia parlare di bellezza parlare di gioia parlare di tutto ciò che è bello oggi le persone sono troppo attaccate al ad un'energia maschile dico che dobbiamo andare verso un'energia che parla di amore e di bellezza fra no ma mi piace mi piace perché mi ha detto ma detto no ma cosa facciamo no c'è molto compleanno e poi dopo giustamente fratti ho messo c'è nella descrizione il link per questa agenda per questa agenda allora poi dopo veniamo noi senti un'ultima cosa curiosità mia io ho avuto un incidente che chiaramente è stato importante per me molto grave che non mi ha fatto niente il primo dicembre numerologicamente cosa vuol dire il primo dicembre è uno karma 9 quindi è 1 più 12 più anno 5 quindi totale è 18 red ronny è 36 che è uguale alla frequenza 18 1 sole è contrario a marte quindi era una giornata sicuramente da bollino rosso per te una cosa molto importante che le persone devono comprendere è che il nostro destino lo decidiamo non nei momenti positivi ma addirittura a volte anche nelle situazioni poco positive se tu pensi che in quel momento che hai fatto un incidente quello sia un incidente dove avrai una grande svolta positiva una grande sveglia una grande risorsa ecco che quella può diventare una cassetta scatenante positiva se invece ti piangi addosso perché le cose non vanno bene ti crei un magnete negativo io sono dell'avviso che il nostro destino noi lo determiniamo in base allo stimolo risposta che abbiamo negli eventi nella vita ti faccio un esempio il covid è una cosa che ha fatto male a tantissime persone ma è una grande opportunità di tantissima sveglia per altre io sono dell'avviso che questo virus ha svegliato tantissime anime facciamo un esempio anche nel mio piccolo mio video veniva visto da 10 20 30 50 mila persone oggi il mio video può essere visto anche da un milione di persone perché comunque diciamo che nella sofferenza l'essere umano si mette in discussione e può tirare fuori delle grandissime risorse secondo me in questo periodo nasceranno tanti geni nasceranno tante risorse tante nuove scoperte però le persone devono cercare di trasmutare questo momento di sofferenza come una grandissima opportunità opportunità di crescita opportunità di grande occasione grazie alla dici dove ci prende quell'agenda ho messo un link c'è un link nella descrizione di questa di questa diretta di là di tutto e e e poi dopo un'altra cosa allora Antonio Piero allora Antonio lui è è un è una una persona che io conosco da un po' di tempo napoletana e non ci dico perché oggi ha portato sfogliatelle e e e e la mozzarella ma di là di quello del territorio editoriale di Opti Magazine Opti Magazine è un magazine che ha 7 milioni di lettori unici mese ed è il più importante magazine che c'è oggi cioè per la musica per serie tv eccetera però va controcorrente perché c'è una sezione delle notizie che gli altri non danno dove io posso pubblicare le interviste ai vari medici fantastici eccetera certo sì perché hai fatto questa scelta beh perché credo non c'era spazio ci sono un sacco di persone che anch'io conosco che cercano anche questo tipo di informazioni non riescono a trovarle perché come sapete molto difficile oggi cercare trovare questo tipo di informazioni non abbiamo fatto altro che aprire un canale lasciare che l'informazione arrivasse e quelle pagine sono hanno un traffico esagerato proprio perché c'è una carenza di questo tipo di informazione non abbiamo fatto nulla di strano abbiamo semplicemente grazie anche le interviste che tu fai lasciato che parlassero medici scienziati giornalisti su tematiche che sono diventate oramai tabù quasi non capisco perché poi tra l'altro non diciamo nulla di strano purtroppo vedo vedo una censura galoppante su sulle piattaforme social e questa cosa credo non dovrebbe piacere a nessuno quando poi vedo che passa in maniera quasi silenziosa mentre io personalmente la ritengo indegna si fra l'altro a proposito di ferrarini è stato bello perché la la diretta c'è il video di ferrarini ha fatto credo sui 10mila condivisioni che sono una novità perché 10mila condivisioni se tu pensi che ogni persona che condivide ha come minimo 500 in media quanti amici avrà 500 più o meno si si 500 per 10mila quanto fa fa parecchia cioè 500mila 500 per 10mila no 500 per 10mila 5 milioni cocco 5 milioni raggiunte 5 milioni in matematica tu alberto giunto tu non vai molto bene mi stai facendo un attimo 5 mila si ho capito 500 persone per 10mila condivisioni quanto fa 5 milioni ok si esatto hai raggiunto 5 milioni di persone abberto si si può far meglio per me è sempre un punto di partenza cosa devi leggere no no questa qua parliamo degli hertz parliamo degli hertz che è un capitolo molto bello l'uomo è una stella che brilla nel corpo nikola tesla questa qua è una cosa molto bella ma al di là di questo creiamo un colpo di scena qual è il tuo obiettivo adesso che entri nel tuo karma perché 15 allora devi fare 15 più 12 fa 27 più 1951 quindi 1951 più 27 fa 1978 1978 che tra l'altro è l'anno che ti ricevo oggi che è l'anno 25 10 17 25 tu sei un 15 karma 7 quindi quest'anno tu fai 70 anni entri nel tuo karma entri nel tuo destino ci può essere una rinascita però il 7 di nascita di karma indica anche sacrificio allora la numerologia e la conoscenza dicono che tu devi sacrificare un qualcosa per creare comunque un grande cambiamento un grande colpo di scena qual è un qualche cosa che saresti risposto a sacrificare per avere una gran crescita perché ci potrebbe essere una grande rinascita l'anno prossimo anno 2022 6 e se redroni è 6 redroni e 9 esposa totalmente la data rinascita dell'anno prossimo quindi devo sacrificare qualcosa intanto io voglio voglio salutare michele micheletti che ha fatto coscienza è uno dei due che hanno organizzato coscienza che è stato quella sì bello quella cosa bella hanno proprio rapporto però ci sarà anche tu è per forza allora intanto io ho già sacrificato una cosa ho sacrificato l'automobile sì quindi quella è già messa vale quella come sacrificio metaforicamente parlando sì metaforicamente parlando sì l'automobile comunque che avevi richiama il vecchio deve andare verso il nuovo quindi devi avere tra l'altro la metafora è che lui oggi ti ha regalato un paio di scarpe sì quindi l'auto rappresenta le scarpe del movimento quindi il movimento lui ti ha regalato un paio di scarpe no no difatti il biglietto cosa dice ti regalo allora come una bella macchina di formula 1 hai sempre corso come un matto e conoscendoti non ti fermerai mai ti regalo un cambio di gomme per il tuo settantesimo giro facciamo una qualche bella tirata delle tue ecco quindi vedi che ha messo quella metafora del senza rendersene conto però è giusto perché l'energia funziona a questo l'energia non è mentale ma è associativa secondo me tu devi puntare via dritto quale deve essere un obiettivo per l'anno prossimo e devi fare un qualcosa di grande pensare a un qualcosa di grande che ha a che fare con la musica e con la bellezza perché andiamo incontro all'anno della bellezza più bella negli ultimi 18 anni e a livello di cambiamento l'anno prossimo è forse il più importante degli ultimi 2000 anni quindi ci saranno un anno fortissimo legato al femminile fortissimo perché? perché 2022 sono tre lame di forbice con un moltiplicatore di energia perché 2 vuol dire l'una lama di forbice 0 moltiplicatore di energia e 22 vuol dire barca che affonda ma tutto insieme mi forma venere 6 quindi c'è un grandissimo cambiamento verso la direzione del femminile quindi il prossimo anno moltissime coscienze si sveglieranno e devono andare verso la bellezza quindi tu devi fare spettacoli che riguardano la bellezza la musica, il lusso, tutto ciò che è armonia e bellezza perché la gente più che mai ha bisogno di finire di parlare di covid a finire di manifestare io sono contrario alle manifestazioni perché la manifestazione dire sì green pass o no green pass dai sempre potere al negativo bisogna manifestare con gli abbracci voglio persone che io mi hanno invitato dappertutto ho sempre rifiutato voglio manifestare in una piazza dove la gente va in silenzio si abbraccia o spara cazzate racconta barzellette o parla di cose che fanno ridere c'è bisogno di tagliare lo schema invece le persone non si rendono conto che c'è sempre energia maschile negativa anche se hanno ragione allora Luca Benfredi dice fatemi capire il mio karma che calcolo devo fare potete mettere come ci calcolo buongiorno, mese, anno eccola qua nell'agenda c'è tutto come si calcolano cos'è la numerologia e come si calcolano le come si chiamano il karma e tutte quelle cose numero del destino numero di karma numero psichico numero di firma è un libro agenda c'è tutto qui allora andiamo avanti oh ragazzi perché dici che l'anno prossimo è quello più bello degli ultimi duemila anni si prospetta un anno un anno allucinante Alberto no è l'anno dove molte persone verranno messe in galera è l'anno del bene contro il male all'ennesima potenza quindi diciamo the show must go on o preparatevi lo spettacolo perché l'anno prossimo che inizierà da aprile quindi gli anni ricordatevi iniziano da aprile non da gennaio gennaio è per la matematica ma l'anno inizia sempre a primavera aprile apri aprile se poi osservate settembre 7 ottobre 8 9 novembre 9 10 dicembre 10 ok l'anno inizia sempre nel mese di aprile e l'anno di aprile è l'anno tra virgolette di trump è l'anno di truth è l'anno della verità è l'anno delle grandissime rivelazioni è sicuramente un anno di grande sfida di grande però le persone devono nel modo più assoluto andare verso la gioia la follia la positività bisogna alzare il tono bisogna andare in piazza sì ma non manifestare abbracciarci darsi gli abbracci darsi i baci voglio vedere in piazza le persone che si baciano in bocca metaforicamente parlando i fidanzati che tornano ad amarsi no che si baciano metaforicamente parlando attraverso un pugno o la mascherina o queste cose qui dobbiamo capire che il nostro tesoro è il nostro intestino tra l'altro venere è in assoluto ipogastrico intestino vescica biliare quindi fare attenzione alla vescica biliare urina territorio intestino polmoni questi sono i meridiani del pianeta di venere e il pianeta è legato alla bellezza pertanto l'anno prossimo tantissime donne saranno attratte a farsi belle più che mai a fare delle diete a fare delle adottosinazioni a comprarsi il bel vestito il bel abito la bella scarpa siamo di nuovo attratti alle cose superficiali che l'essere umano veramente ne ha tanto bisogno c'è bisogno di un po' di leggerezza venere spazzerà e ci saranno grandissime rivelazioni infatti vedi Serenella la donna protagonista del 2022 il femminile protagonista il femminile se la donna sposa il femminile è una marcia in più però deve essere la donna che sposa Ale Ale aspetta sei in diretta ti posso mettere in viva voce? è il mio amico dimmi ma come dimmi sei sempre in diretta ma com'è possibile vivi in diretta praticamente sei un ferragnes un ferragnes della non so della world economy praticamente sì solo che solo che io faccio un'altra una cosa diversa Ale che io faccio una roba per il bene non sto a pubblicizzarti il prodotto la roba hai capito? ah ok ho capito ti dico una cosa ieri che ti ho seguito durante la tua diretta io ho trovato una storia meravigliosa cioè tu hai mandato una persona a cercare la tua prima fiamma tra virgolette questa toriana e questa persona si è innamorata a sua volta questa che tu hai mandato di il suo attuale fidanzato quindi hai generato amore è una cosa che ho trovato meravigliosa è certo è certo però la cosa che tu ho scritto ieri che tu non hai conto cioè o hai sbagliato per sentirlo però possibile che il cognome di questa ragazza di cui tu eri innamorato è lo stesso cognome di questo fidanzato nuovo della della pixi no ma si è lo stesso cognome è clamorosa cioè no 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 perché lei cercando questa Doriana Calzolari a bando di argenta lei ha trovato ad argento un Calzolari e ha chiesto quel tuo Calzolari se conosceva questa Doriana Calzolari questa ragazzina con cui ho avuto un amore platonico mano nella mano e quando ero un ragazzino quindi lei cercando quel dato alla fine li sono messi assieme però la cosa bella è che io ho parlato di te adesso cioè prima di iniziare la diretta eh ma come veramente ho fatto una telefonata ho fatto una telefonata al direttore marketing del Milan nostro amico che senza dire no ti ho perdonato ah bravo senza dire no e lui ho detto voglio portare il bambino tifoso del Milan a vedere il Milan che sei tu il bambino tifoso del Milan e lui ci ha proposto ci ha proposto un 6 gennaio eh Milan Milan Roma o un 23 gennaio Milan Juve 23 gennaio Milan Juve ok cioè non ci stiamo neanche a discutere cioè lo facciamo e basta Milan Juve vale la pena San Siro anche perché se c'è la possibilità che possiamo vincere forse è quella perché non mi pare che ultimamente siamo andati molto meglio negli ultimi anni quindi forse è l'anno giusto ok ok grazie Ale ti voglio bene ciao io soltanto auguri che lo trovo fatti diciamo nonostante avessimo scritti tutto qua augurissimi un bacio ciao Alec a presto grazie ciao ciao le persone qua nella tua diretta vedo che parlano di denaro no aspetta se ti fermo subito intanto lui è Alessandro Zai che è il responsabile del programma di Rete 4 con la Palombelli ecco perché ogni tanto capita la Palombelli perché mi dice vieni e dico va bene e di controcorrente con la Veronica Gentili è responsabile di questi programmi ma veniamo noi prima ti poi dove pari tu allora come si fa ad avere l'agenda di Ferrarini questa agenda allora io nella descrizione l'ho già detto ho messo uno shop ho messo un indirizzo dello shop perché tanto lo sapevo che poi lo chiedevate qui c'è l'indirizzo dello shop dove trovare questa agenda 2022 peraltro di cui sono orgoglioso perché la scritta l'ha fatta lui ma la grafica l'hanno fatto Jessica e Christian mia figlia e suo compagno e la patti che la quale voglio molto bene perché perché niente sono tre talentini allora tre talentini no è vero sono brave tre talentini entravano in 30 tutti diciamo che le persone dovete finirla di parlare non ho soldi non ho soldi non ho soldi perché se continuate a dirlo state creando questo messaggio nell'universo state zitti non dite niente cercate di farvi belle di andare verso la bellezza cercate di visualizzare anche il denaro cercate di andare a letto prendete 50 euro mettetele sotto il cuscino cercate di amare cercate di amare qualsiasi cosa e l'energia viene verso di voi ricordiamoci che la nostra mente è una calamita è un magnete e dobbiamo cercare sempre di guarda questi sono soldi che Alberto mi ha dato ok e e li ho messi qui sopra e li tengo qui sopra e c'è la donna delle pulizie che non capisce perché tengo i soldi qui sopra firmati da lui e cose sono 120 euro ma non li spende no perché tirano no finora non ha funzionato però funziona non è vero che non funzioni invece si è migliorato tantissimo io sono dell'avviso che le persone devono migliorare il rapporto col denaro perché dovevano imparare a capire che il denaro non è lo sterco del diavolo come qualcuno dice i potenti vogliono farvi capire che è lo sterco del diavolo così voi lo capite voi diventate vittime del denaro loro fanno i soldi voi diventate i loro schiavi invece il denaro è una fonte di energia col denaro si possono fare tante cose buone positive si può anche donare si possono aiutare tante persone il rapporto col denaro deve essere bellissimo ma se una persona è in difficoltà non deve dare potere ma deve cercare di dare potere sempre al positivo reputo e a tutti quanti le persone che mi conoscono molto bene e dico cominciamo a emanare magnetismo positivo incominciamo a essere folli come l'essere umano è stato drogato negativamente attraverso i colpi di scena che in due ore hanno svuotato i supermercati sono dell'avviso che noi dobbiamo fare altrettanto rivolgendo le cose al positivo ok quindi se io dico una cosa magari qualcuno si dimentica questa diretta giusto benissimo ma se io prendo Red Ronny ok prendo Red Ronny lo prendo in faccia e gli do un bacio in bocca adesso la gente si ricorderà che io ho dato un bacio in bocca Red Ronny questo è un tagliare ma no che andiamo a finire ma no che andiamo a finire per tutto non infatti facciano fare i mandi questa roba ma va bene adesso però questo però questo siccome stava dormendo avete capito allora sto dormendo sto leggendo credi che metti sopraimpressioni i messaggi ma questo taglia lo schema hai capito allora quello che la cosa è importante che la gente deve capire è che bisogna tagliare lo schema al positivo hai capito e quindi se noi tagliamo lo schema al positivo la gente capisce quindi ho spiegato le persone che devono finire di lamentarsi ma devono vedi che cominciano a ridere bisogna tagliare positività positività bisogna creare magnetismo positivo è questo il concetto se tu lo fai sfondi oggi le persone sono troppo cioè quello che uno fa già previsto mentre la persona si ricorda oh quello ha dato un bacio no non sono gay neanche lui però fondamentalmente hai capito lui è 15 io sono 15 se si pulisce la bocca dai pulisciti la bocca è quello il concetto ecco ok ok uno più uno più uno uguale a grande sta ridendo tutti gli hai fatti ridere tutti ma è giusto è il tuo compleanno comunque vabbè certo inauguro il mio 70s compleanno la prima volta a baciare un uomo beh non è male capito cioè no no baciare un uomo è un bacio è affetto allora il concetto il concetto è che le persone devono cominciare a capire una cosa molto positiva dovete incominciare a schizzare dovete incominciare a sognare perché quando le persone sono nell'armonia nei sogni nella follia nella follia non c'è l'ipnosi provate a sparare cazzate prendete una donna fategli bere un bicchiere di vino che è felice vino veritas questa qua ti alza una casa ti alza tutto quindi noi dobbiamo incominciare a comprendere che noi siamo energia siamo energia positiva o siamo energia negativa dobbiamo cercare di capire da che parte vogliamo andare finirla di piangersi addosso e vedere come questa crisi può essere una grandissima opportunità per ognuno di noi secondo me lo è è una grande opportunità cosa dici Antonio? sono d'accordo ad esempio tu sei tanto cresciuto perché hai dato un articolo diverso sì abbiamo aperto un canale che non c'era prima e quindi le persone avevano modo di leggere cose che non c'erano altrove no ma su OptiMegas poi avete anche aperto io sto con Vincenzo quando c'era tutta la parte diciamo di San Patrignano fra l'altro oggi è uscito un altro articolo sul storico di San Patrignano per i miei compleanni mi hanno chiesto perché ero amico di Vincenzo Muccioli tutte le cose che mi puoi chiedere però bello sul secolo XI guarda anche lì senza dover prendere per forza delle posizioni abbiamo semplicemente aperto un canale e abbiamo sentito i ragazzi di San Patrignano quindi ci hanno chiamato in tantissimi noi li abbiamo ascoltati abbiamo messo semplicemente nelle pagine quelle che erano le loro storie reali che ci raccontavano al telefono quindi non è altro che la verità comunque se lei adesso non è per farti una critica conosco un po' quel tuo giornale anche positivamente hai fatto un gran giornale in questo ultimo anno stai avendo un gran successo sii felice perché vuol dire che nella crisi tu vai su divertiti vai su e vai ancora più su dare potere al positivo dobbiamo dare potere al positivo e secondo me tu che hai questo grande giornale che è fantastico Red mi dice che è il migliore italiano di quello che fa e ci credo lui che è forte noi siamo degli esempi anche per chi ci guarda la gente deve vedere dei matti positivi nel mio caso che dà sempre qualcosa di positivo la gente oggi è troppo impregnata di negatività accendi il telegiornale ci sono dei personaggi che c'è da toccarsi le palle apri la televisione apri un giornale apri la radio tutti che vogliono ottenere le frequenze basse dell'essere umano io dico alziamo le frequenze diventiamo folli diventiamo gioiosi torniamo ad amare la vita e l'anno 2022 secondo me ci dà un'immensa possibilità di tutto quanto ciò ma scusa tu secondo me sei un po' fuori prima hai detto è un anno bellissimo poi dici arresteranno tante persone è bello scusami ma io io sono una persona ma scusa un attimo arresteranno allora è un anno venere è un pianeta fondamentalmente è la dea dell'universo la bellezza dell'universo è un pianeta molto molto amante in questo caso della verità verranno alla luce molte verità e purtroppo ci sono delle persone che magari hanno fatto degli sbagli e quindi io ho la coscienza pulita tu anche lui anche quindi noi siamo sempre verso il positivo io non sono contrario a nessuno però secondo me le persone che hanno sbagliato è giusto che comunque insomma c'è gente che di questa crisi se ne sta approfittando sta svalutando tante persone non è giusto c'è tanta gente parliamoci chiaro dati ufficiali i suicidi sono aumentati di cosa del 200% 300% le depressioni quanto perché mica perché si devono suicidare ma perché le persone continuano a avere un terrorismo psicologico che è da fuori di testa basta incominciamo a trovare un giornale positivo mi auguro che ci sia una pagina nel tuo giornale che parla di follia se il tuo giornale parla di follia creare un giornale verde che indica positività il semaforo via libera che parla di fatti green cos'è verde giusto chissà perché il pass verde secondo me le persone avrebbero delle risorse pazzesche la gente oggi più che mai ha bisogno di impregnarsi di esempi positivi e di positività vero allora è importante leggere la gente dei ferrarini dobbiamo essere persone dobbiamo essere gioiosi poi mi piace aprirla a caso aprire una pagina prendere una frase quella che c'è quando cominci a capire il tuo valore che ti è vicino comincerai a vederlo di più altra pagina io sono un'opera d'arte in movimento quindi ogni giorno bisogna trovare sempre qualcosa io sono dell'avviso che il mondo più che mai oggi è dei matti è di quelli folli perché sono quelli folli e quelli matti che cambiano questo mondo sì e te in base di follia non sei male ma un pochino diciamo che nella vita io cambio tante cose faccio tante cose comunque ti fanno tanti auguri perché dimostra di essere giovane questo ti fa bene infatti comunque anche essere vegetariano questo comunque ti aiuta tantissimo certo questo è vero mamma mia quanta roba Elisabetta Frank ti dice oh Elisabetta mia amica di New York adesso è a Roma perché la mamma non sta benissimo spegnete la tv è da spenta da matti e viva il cambiamento facciamo il red pass spero metteranno in galera tutti i politici venere donna ma io lo dico sempre che il futuro nella musica è molto donna perché le cantautrici oggi sono qualcosa di speciale davvero molto meglio non molto meglio però insomma c'è molta molta roba valida questa è una bella frase devi leggere la voce io amo tu ami egli fregatene bello mi ricordo quando ti è venuto in mente eravamo insieme in Sardegna in Sardegna certo perché quando prendo l'aereo mi cago sempre addosso ho paura e quindi scrivo frasi io amo tu ami egli fregatene cioè è giusto cioè fregarsene sì essere un po' egoisti tu sei diventato un po' più egoista ma no perché io godo quando non riesco a far far bene gli altri ma l'egoismo se tu l'egoismo la vedo una cosa positiva non egoismo egoismo che che pensi un po' per te e poi pensi anche agli altri no sarà il mese quale sarà il mese della giustizia del 2022 ti chiedono ma sicuramente viaggio da aprile ok maggio giugno sacrificio luglio ok però da aprile inizia l'anno e secondo me ne vedremo delle belle è un anno molto particolare ripeto sono tre lame di forbici bisogna essere io sono dell'avviso lavorare tantissimo sull'alimentazione visto che tu sei anche vegano è una cosa intelligentissima lavorare sul terreno trovarsi un bravissimo medico con un pensiero olistico che lavora sul terreno dell'intestino importantissimo lavorare sulle difese immunitarie e schizzare più che mai essere felici di essere al mondo essere felice di vivere vivere il presente nel modo più assoluto comunque tu hai detto che c'era poca gente c'è più gente adesso della diretta di Vascorossi che ho fatto ieri sera sì se la facevamo sta diretta tra un'ora erano 4-5 mila persone sono certo perché io quando faccio le dirette dalle 8 di sera sono 4-5 mila sono 1.5 non lo chiamo le frequenze pare che tempo che non ascolto più la tv va spenta tra l'altro in tanti la stanno spegnendo ma la tv sta prendendo un tracollo pazzesco sì assolutamente quindi guarda guarda c'è la cosa più bella ti faccio una domanda guarda vai vai da Antonio Antonio tu guardi la tv eh perché mi fai sta domanda perché lui guarda sempre la tv solo che guarda la tv con i programmi di internet esatto guardo ma guarda che sono tanti come il mio ormai usare la televisione come device per guardare le piattaforme quindi guardi c'è molto youtube oramai in televisione guarda caso la pubblicità se tu fai caso ai pre-roll di youtube si sono tutti trasferiti lì quindi ci sono tantissimi player italiani diciamo dell'industria che prima vedevamo anche sui canali diciamo mainstream oggi sono molto su youtube sei connotato la cosa stranissima la gente guarda la tv sui telefonini e guarda i telefonini sulla tv cioè veramente c'è la gente guarda i programmi televisivi quando gli interessano a partito ce lo guardano in streaming sui telefonini poi quando hanno i telefonini mandano dal telefonino o il web in tv è fantastico si lo faccio anche io devo dire la verità succede anche a me guardare sempre le cose che mi arrivano anche sul cellulare le guardo sempre in tv e poi dopo c'è stato un cambiamento totale delle informazioni grazie a whatsapp telegram perché la gente ha cominciato a scambiarci le notizie lì si è vero però è cambiata un po' la funzione televisiva questa cosa tu la sai perché oramai da quanto tempo fai televisione via web dal 2011 sono dieci anni ecco quindi diciamo il 12 dicembre abbiamo iniziato il 12 dicembre 2011 cazzo non l'abbiamo festeggiato il 12 dicembre sono dieci anni io ho iniziato il 12 dicembre 2011 c'è un buon giorno per iniziare 12 è Gabriele Ansaloni che è 48 12 12 24 2011 karma 1 inizio però è riferito più a Gabriele Ansaloni che a Redrone quel giorno quella giornata tra l'altro 2011 avevi 60 anni avevi 59 anni che andavi per i 60 sì ci sono passati dieci anni comunque comunque io farei veramente un'applicazione o un qualcosa dove ci sono persone che lavorano sul tono emozionale delle persone perché oggi più che mai c'è bisogno di persone che hanno l'umore alto perché come il mondo è schiacciato con la paura il pathos la psicosi la rabbia se ci sono persone con un tono alto secondo me possono aiutare tantissime persone ci sarà un ritorno di Trump certo non vedo l'ora aprile 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 Trump si verità sicuramente ci saranno delle rivelazioni forti però al di là di questo io non sono per questo per questo io sono secondo me l'essere umano si deve difendere da solo dobbiamo andare verso la conoscenza più che mai verso l'alimentazione e rimango basito perché ripeto la medicina secondo me deve fare un grande salto di qualità mi auguro che vengono fuori quei dottori ce ne sono tanti bravissimi che lavorano e parlano di terreno parlano di intestino parlano di alimentazione perché secondo me la medicina del futuro sta proprio nell'alimentazione io sto saltando purtroppo tantissimi ogni tanto vado avanti veloce se qualcuno ha scritto qualcosa di importante lo descriva perché festeggiate insieme la tv non la guardo da marzo 2000 tipo auguri ma la gente fondamentalmente ha bisogno di qualcosa di nuovo di gioioso anche di leggero di leggero di leggero c'è bisogno di bellezza mi sono ripreso dall'incidente si può dire lui perché oggi abbiamo fatto un'analisi il mio incidente mi ha fatto parlare strane interessante si ha associato l'incidente come dicevo prima a un gran amico di infanzia che ha avuto un po' una situazione analoga che però purtroppo dicevi prima perché l'abbiamo registrata prima la metti l'onda dopo non dire come dicevo prima si si va bene va bene comunque comunque la cosa importante ripeto è anche circondarci di persone secondo me molto 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 positive in questo momento più che mai è di circondarci di persone che ci danno stima è molto importante è una grandissima medicina e questo è nel 2022 nuovo papa si secondo me ce ne saranno tre e adesso dai disdetta con lettera senza busta beh c'è Ratzinger c'è Bergoglio cosa vuol dire dai la disdetta con lettera senza busta fanno tutto loro se non è la Dercoli cosa vuol dire questa cosa qui dai la disdetta con lettera senza busta fanno tutto loro non so cosa voglio dire puoi dire qualcosa per le forze erudine degli insegnanti che verranno sospesi da oggi c'è speranza per noi che stiamo resistendo purtroppo la situazione beh io sicuramente ho stima delle persone che hanno un credo se uno vuole farsi la sperimentazione secondo me fa bene perché è un suo diritto ma se una persona non se la vuole fare come non rispettarlo anche perché una cosa che le persone non conoscono è l'effetto nocebo l'effetto nocebo non è conosciuta dalla medicina però diciamo che è un'autosuggestione negativa molto forte questa l'ho vista sui giocatori l'ho vista in altre situazioni ed è molto importante l'effetto placebo è positivo perché può lavorare sull'autosuggestione che comanda l'ottanta per cento del corpo umano ma l'effetto nocebo a sua volta lavora sull'ottanta per cento del corpo umano pertanto se una persona non vuole fare una cosa non la vuole fare perché non la vuole fare perché non si sente di farla perché non la vuole fare per mille e più motivi e poi la fa si sta creando inconsciamente una violenza e quindi io sono per la libertà ognuno di noi è capitano della nostra anima e deve decidere quello che è il meglio per la propria vita in sostanza ok che fine farà Bergoglio che non è mica Frate Indovino cioè attenzione questa è l'agenda di Alberto Verini non il calendario Frate Indovino io invece ti sbagli perché io Bergoglio a luglio di quest'anno ho detto che sarebbe del 2021 abbiamo fatto una diretta su Qui Zero Alibi dove parlavo di Bergoglio e dove dicevo che Bergoglio dovrà dimettersi perché per determinati motivi a livello numerologico tra l'altro è un 3 l'anno prossimo andrà in un anno 6 e per i 3 è un polino rosso quindi deve cioè una cosa molto importante che le persone devono capire che i magneti che noi abbiamo vicino possono essere delle grandi medicine ma possono essere anche fondamentalmente delle grandi purghe cioè dobbiamo circondarci e avere la cultura di circondarci di persone che hanno stima di noi che hanno una grande stima di noi e che ci vogliono veramente bene questo secondo me è una grandissima risorsa oggi le persone dovrebbero fare questo ok hanno spaccato le famiglie ad esempio questa ragazza Ilaria dice io non voglio farla ma mio padre è contrario non hanno spaccato le famiglie il problema è che le famiglie non ci sono mai state è diverso le famiglie oggi si capisce quanto la chiesa ha lavorato poco bene le scuole hanno lavorato poco bene l'educazione ha lavorato poco bene perché secondo me invece c'è una grande possibilità di rinascita che possono nascere delle grandi famiglie in virtù a questa situazione di grande difficoltà quindi le persone devono incominciare a dedicare meno tempo a cose che non servono tipo il calcio tipo la Champions League tipo queste cose qua e creare dialoghi di qualità iniziando proprio dalle famiglie Bergoglio va in galera addirittura va bene ma non diamo potere al negativo diamo potere al positivo Alberto sono 434 vabbè dico la figlia all'interno del caldo del caldo è un indovino ah è un indovino va bene ok non ho più lavoro per questa sperimentazione fiere della mia decisione fiere della scelta di seguire Alberto da quando a marzo si è rotta la tv mamma mia ragazzi cioè c'è c'è un nuovo mondo c'è un mondo c'è un mondo spaccato spaccato in due te ne rendi conto anche te Antonio certo che me ne rendo conto Red lo vediamo ogni giorno ed è abbastanza triste no? hanno messo l'uno contro l'altro si sono riusciti a fare il divide d'impera però un napoletano mi ha detto io gli ho chiesto ho fatto una domanda che non dico lui mi ha detto non deve preoccupare qui a San Regno delle due Sicilie in Roma non è mai arrivata però mi sa che anche Napoli stia accedendo o no? chi è questo napoletano? dopo ti dico è un artista napoletano sai che Napoli sempre è un'eccezione nel panorama italiano perché al porto al mare è sempre stata una città con le braccia aperte quindi è una città d'accoglienza è una città dei conflitti posso rispondere a una domanda di una donna che ci ha scritto io che sono nato il 30 gennaio allora per me è negativo secondo la numerologia allora ci sono degli anni che sono di grandi rettilini e delle curve chi è nato il giorno 3 12 21 o 30 o che ha karma 3 o che ha firma 3 secondo la numerologia talinda caldea o la numerologia ebraica ok l'anno prossimo è un anno da bollino rosso è un anno di pericolo ma possono avere un anno positivo se queste persone hanno un tono emozionale alto a scuola purtroppo insegnano cazzate ai bambini la prima regola che dovrebbero insegnare un bambino a scuola è l'autostima la seconda regola è il tono emozionale alto cioè avere un tono emozionale alto significa trovare soluzioni fare sì che il cervello abbia soluzioni circondarci di persone positive comunque di avere sempre un umore molto alto il nostro umore lavora con le difese immunitarie Jessica è arrivata mia figlia Jessica ciao hai visto la tua agenda non mi permettevo di rispondere vieni vieni ti abbiamo appena nominato perché ti ha fatto i complimenti l'hai già vista tu l'agenda? no in realtà no non hai ancora visto l'agenda? eh no come faccio a vederla? e beh eccola qui guarda posso l'hai fatta lei? certo l'hai fatta tu però non conto è farla ha un computer non conto è vederla è non bisogna fare la roba eh come è? ah no beh non lo devo dire io com'è eh no no lei mi ha detto che ci piace ma te come rispetto alla tua idea è venuta bene? ah sì cioè beh perché lei è sincerissima lei non dice fantastica lei non recita mai no l'agenda è bella te lo dico io se no sono più molto critico è bella com'è la carta? ed ha molto contenuto no la carta è un'altra no no di qualità di grande qualità 27 maggio 1962 9 karma 5 ecco ad esempio questa persona deve lavorare moltissimo sulla disossinazione e fare passeggiate e deve somatizza un 27 sulla circolazione del sangue quindi bere acqua fare lunghe passeggiate fare attenzione alla caseina perché ci sono determinati elementi che possono creare intossicazione ecco io è bellissima vedi allora Jessica ipercritica alla patica scrive Jessica ipercritica sta guardando sta analizzando sta guardando è la che la guarda è la tutta con i ditini la che la guarda sono due milioni di pagine non è che musica bello c'è due milioni di pagine è un libro agenda numerologica è molto particolare il tono emozionale alto salva vite e non costa nulla verissimo Serenella ha ragione secondo me è una cosa ad esempio tu Red avresti un tono alto perché? perché comunque anche la voce che hai il modo di fare che hai è positivo ed è per quello che sei stato preso da Crozia Crozia ti ha preso perché comunque attraverso di te ride e comunque tu crei un tono alto perché è positivo questo certo la scuola stavo privando i ragazzi distribuiamo li distribuiamo danno autostima ma li afforziano verissimo la scuola oggi non educa ma insegna lascia il segno non tira fuori i talenti ma sicuramente dopo questo covid perché tutto quanto finirà mi auguro che ci sia una grandissima rivoluzione sì allora Fabrizio Perpaolo la Jessica è quella bambina che intervistavi quando era piccolina sembrava già una saggia sì è quella è rimasto tale è già una saggia vedi era lei è immersa nella sua nella sua agendina la che guarda adesso non la vedete perché fuori i telecamere perché lei non è che ha miele telecamere poi in maniera incredibile capito allora andiamo avanti arriviamo alla fine devo saltare ancora è bellissima l'agenda mi sono Red Ronny Red Ronny ha una voce rassicurante unica vero la voce ad esempio lavora moltissimo sul tono emozionale a volte ascolti una persona e già dalla voce ti tira giù il tono cioè ti abbassa l'umore le persone devono lavorare moltissimo ripeto sulla voce sul tono ad esempio un bellissimo esercizio da fare sarebbe proprio quello di registrarsi la propria voce fare un esercizio da dieci minuti un quarto d'ora al giorno registrarsi la voce e molto spesso fa schifo la voce quando la registri ma a forza di ascoltarla ma ti spiego perché fa schifo la mia è bellissima no a forza di allenarmi no la prima volta che tu senti la tua voce registrata dice non sono io ma per un motivo molto semplice perché tu sei abituato a sentire la tua voce che esce di qua entra dentro ma prima ti arriva da dentro la vibrazione della tua voce ti arriva da dentro quindi tu non la senti da qui da qui la sentono gli altri infatti la dici ma è la tua voce ma non sono io quello lì è stranissimo non mi piace perché tu senti anche da dentro la voce ok allora Marcello sono in diretta posso chiamarti fra 5-10 minuti che ho bisogno sono praticamente in mezzo caos più totale perché caos perché caos più totale sto bene compio gli anni oggi perché caos più totale perché caos più totale perché caos più totale perché stai andando in treno e purtroppo prendi tre in brutti e mesi ah prendi ho capito perché prendi tre in brutti tanta roba importante la voce la voce è importantissima dovete creare allenamento sulla vostra voce ascoltare la vostra voce e se non vi piace cercare di modificarla attraverso la registrazione è una questione di allenamento è una cosa molto importante è un esercizio molto importante da fare sulla voce è quello di ascoltare anche il dialogo interno e la chimica della parola che avete sono degli esercizi molto belli che insegno spesso e veramente possono fare un qualcosa di meraviglioso ok Alberto fai una diretta con tanti medici posso dire una cosa lo voglio fare ma i medici non vogliono perché 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 non vogliono perché hanno in un certo modo hanno paura li posso anche capire li posso anche comprendere però ripeto secondo me è venuto il momento che le persone devono hanno una grande occasione alzare il tono emozionale andare verso l'alimentazione trovarsi un bravo medico olistico con un pensiero olistico ma soprattutto meditazione sport yoga aria aperta cioè dobbiamo capire quanto importanti siamo dobbiamo incominciare a darci valore nella nostra vita più che mai e abbiamo una grandissima occasione in modo più assoluto ok tantissimi auguri eccetera esatto questo esercizio vabbè ragazzi dimmi cosa farai per l'anno prossimo qual è il tuo obiettivo sparali in una grossa sogna non pensare l'anno prossimo l'anno prossimo vorrei fare no vorrei sbagliato voglio ok l'anno prossimo voglio l'anno prossimo farò un programma no farò quando nel 2052 voglio farò l'anno prossimo seguimi a me cazzo programma scusa un attimo fidati l'anno prossimo l'anno prossimo anno 2022 non 2022 2022 chiedo scusa voglio voglio di cosa vuoi voglio riuscire a fare un programma delle manifestazioni che riescono a dare spazio non succederà voglio riuscire voglio succede vivi il futuro vivono nel presente 2022 voglio fare un programma che dia spazio agli artisti nuovi e gli dia un ampio spazio con molto successo e con le persone curiose che riscoprono la curiosità di ascoltare ciò che non conoscono allora adesso tutti quanti voi in diretta scrivete lo voglio anch'io red punto ricordati che l'intenzione si soprattutto nel cui ora è proiettato nel futuro conta tantissimo cioè ho realizzato tantissimi sogni nei ragazzi nel futuro proiettandoli al presente ma con una grande intenzione e determinazione il futuro in realtà è adesso certo lo so che è follia però i risultati sono chiari ti piace allora? si tutto sommato si tutto sommato si no sono due o tre cose che con una prova di stampa avrei sistemato è molto bella fidati trovi un'agenda più bella di questa qui se tu me la trovi più bella di questa qui come contenuto è bello anche da tenere come contenuto bello anche da tenere ma si ha un buon tatto ha un contenuto che è allucinante è benissimo ma no è un libro è un libro è anche io voglio red voglio anch'io red la visa picture voglio anch'io red voglio anch'io red bello lo volete tutti e quindi accadrà ragazzi per forza guarda ho aperto una pagina a caso e c'è scritto lo specchietto retrovisore dell'auto si guarda per partire per svoltare per soppassare pertanto quando prendi una decisione nella vita centrati e osserva per un attimo il tuo passato ma poi però fai la tua scelta e vai nel tuo futuro queste sono delle metafore molto interessanti devi pensare in grande più che mai va bene va bene è già fatto ve lo voglio anch'io red lo volete tutti va bene ciao ragazzi premio il pulsante lì premio hai già capito come ci fa la regia mi piace bello bello premio vuoi anche te un'altra telecamera con la regia si se te la doti ti diverti vedi con i pulsantini così vedi tac 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 vedi che bello guarda che bello ok buon compleanno red buon compleanno ciao grazie grazie ragazzi grazie a voi siamo altri amici arrivano i moschettieri noi siamo qui parliamo ragioniamo pensiamo e prepariamo al futuro siate folli ci vediamo sabato sera con l'expans saturday night together grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta